come luccica non è male come equipaggiamento è andata di lusso da fare cattura l'attenzione bella scelta non è male come equipaggiamento oltre una qualità e minima usura come luccica è la prima volta che ne vedo uno ora è tutto per la prima volta che ne vedo una volta che ne vedo Ehi la, non so se ti interessa ma ho delle batte...